Cosa lega la compagnia di bandiera olandese con la deriva vela degli anni 50? Le tavole di Karl Barthes e Romano Scarpa con le pagine di Edgar Allan Poe e Louise Sepulveda, la passione tra Avagarda e James Mason e la bolla dei tulipani, Torri Amos con Richard Wagner. Lo scopriremo al Teatro Manzoni di Bologna il 25 gennaio. Grazie per la visione!